we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e anche oggi ragazzi siamo qui con what the hen ragazzi questo meraviglioso gioco che è esploso da poco da noi in italia anche se in realtà era già disponibile sul play store da maggio 2016 grazie al nostro ciccio gamer 89 che ce l'ha fatto conoscere e ci ha reso veramente molta più felicità insieme al nostro metico clash royal allora ragazzi in questo video di oggi voglio ricordarvi che nei miei precedenti video ho caricato ben due episodi dedicati ai codici promozionali da inserire andate a cercarli andate a guardarli vi serviranno tantissimo 14 codici solo per voi per ottenere risorse gemme oro ed eroi gratis abbiamo parlato di un'infarinatura generale del gioco abbiamo parlato delle prime strategie oggi cominciamo a vedere la carta che secondo me è una delle più forti del gioco ragazzi sto parlando di rosy la rossa l'ho sbloccata questo pomeriggio in live chi c'era l'ha visto ragazzi nel baule insieme alla leggendaria lorenzo granchias la terza leggendaria che ho trovato dello stesso tipo vi ricordo tanto che il profilo è tutto no shop ragazzi rosy la rossa 105 la salute combattente fa parte dei nani ragazzi solo a livello 1 toglie 450 punti ferita la velocità di movimento è molto veloce e l'attacco è veloce tra l'altro ha un cooldown veramente veramente velocissimo solo 20 secondi di attesa ha già un'abilità al primo livello infuriato più 50 per cento di velocità attacca quando i punti vita sono sotto la metà se riusciamo a tenerla sotto la metà diventa infuriata il deck è stato leggermente sistemato ho tolto lisbeth mettendo al suo posto sempre una truppa che facesse male da lontano in questo caso lauren l'ho tenuta e ho messo al suo porto al suo posto al suo porto rosy la rossa quindi ragazzi siamo pronti per entrare in una sfida 5255 gem vi ricordo prima di entrare in sfida ragazzi di lasciare un bel pollicione in su se vi sta piacendo il video se vi piacciono le live dedicate a wapen e a clash royale ed iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto dentro così allora grazie ovviamente a tutti wizard dark livello 12 gioca con wow rosy la rossa livello 6 caspita qua subiremo subiremo ragazzi vediamo un pochettino vediamo un pochettino che cosa succede mi entra anche qualcosa nell'occhio ai 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 apriamo subito col nostro lorenzo e lui apre con il maggior domo dietro lauren ragazzi lauren dietro lorenzo e appena lui evoca rosy no pensavo evocasse rosy pensavo evocasse rosy la evoca adesso andiamo a rallentarla andiamo a rallentarla è stata in realtà colpita addirittura dal nostro ciccio forza con la nostra rosy forza con la nostra rosy che va a colpire ragazzi due hit tre hit addirittura a mona lo scudo umano ragazzi incredibile qua avevo potuto tranquillamente avrei potuto anche rallentare e basta e come vedete wow tre colpi a mona gli ha tirato da 450 l'uno ragazzi potenza della natura andiamo a provare l'ultima partitella per vedere un pochettino se vale davvero la pena tenere nel deck la nostra meravigliosa rosy ragazzi perché secondo me ne vale la pena wow siamo contro un livello 52 un bot ragazzi vediamo vediamo a tutte le comuni sopra il livello 25 e a una rara a livello 10 ragazzi mamma mia apriamo subito ancora con lorenzo lui apre con angela la tettona di padova vediamo se riusciamo a tirarla indietro perfetto c'è anche vai vai nonna c'è anche la nonna ragazzi c'è anche la nonna andiamo subito con rosy ragazzi che subisce purtroppo i colpi c'è poco da fare cerchiamo di rallentare tutto cerchiamo di rallentare tutto la nonna non ci impensierisce più di tanto ma riusciamo a tirarla giù per fortuna avanti ancora con i goblin vediamo se ciccio tira giù anche angela e purtroppo la furia verde ragazzi la furia verde non è assolutamente fermabile andiamo avanti andiamo avanti è rimasto solo ciccio in piedi ragazzi solo ciccio in piedi ne tira giù due anzi tre anzi tre ragazzi secondo me con un altro ciccio dietro possiamo fare i peggio casini proviamoci proviamoci forza col secondo ciccio la nonna è andata ragazzi la nonna è andata fermiamo tutti qua fermiamo tutti qua e partiamo allora con rosy e partiamo allora con rosy ragazzi abbiamo una difesa eccezionale doppio ciccio dietro ragazzi doppio ciccio dietro contro questo bot a livello 52 incredibile incredibile guardate che potenza guardate che potenza un ciccio l'abbiamo perso ragazzi mettiamo il secondo arciere che va a sostituire quello appena tirato giù dai colpi dei miei avversari del mio avversario dai ciccio avanti rosy potrebbe ribaltarla di nuovo sembrava fatta invece potrebbe ribaltarla di nuovo tiriamola giù di nuovo la nonna tiriamola giù di nuovo la nonna andiamo a colpire con ciccio che bisogna subito rigiocare non appena disponibile non appena disponibile sotto il secondo ciccio perfetto evocato anche il secondo ciccio andiamo a sparare così il primo esplode il primo esplode ragazzi mamma mia che fatica ragazzi che fatica avanti ancora con rosy teniamo dietro ciccio teniamo dietro ciccio con rosy davanti cerchiamo di spammare i goblin adesso cerchiamo di spammare i goblin adesso forza forza goblin forza goblin serve rosy serve rosy è brutta ragazzi è brutta metto dietro lauren metto dietro lauren attenzione ancora attenzione ancora bisogna cercare di resistere bisogna cercare di resistere con la mano del dolore possiamo rallentare ripartiamo ancora sotto quanto è concitata questa partita ragazzi rosy la rossa ancora sorpassa ciccio e va e va ragazzi e va ragazzi avanti ancora qua siamo assolutamente arrivati a pochi centimetri dal suo eroe ma non avevamo più disponibile nel nostro povero ciccio che dobbiamo rievocare in questo momento e di nuovo riparte la giostra ragazzi riparte di nuovo la giostra ragazzi mamma mia che battaglia mamma mia che battaglia la nonna se ne va di nuovo rosy di nuovo rosy il nostro ciccio dietro serve lauren serve anche lauren vediamo se riusciamo ma è troppo pericoloso è troppo pericoloso lasciarci scoperto il nostro ciccio non deve subire non deve subire cerchiamo di rallentare è persa ragazzi penso che sia persa ragazzi penso che sia persa ragazzi mamma mia mamma mia mamma mia ciccio vai ciccio tira giù una tettona verde ragazzi tira giù una tettona verde mettiamo rosy mettiamo rosy wow wow avanti ancora abbiamo perso ciccio ragazzi abbiamo perso ciccio e penso abbiamo perso anche la partita non ce n'è non ce n'è meteo shower arriviamo al sudden death praticamente ma non c'è nulla da fare e crolliamo sotto i colpi del bot ragazzi crolliamo sotto i colpi di questo livello 52 che aveva una potenza veramente devastante mamma mia mamma mia ragazzi dai chiudiamo questa è veramente bellissima averla salvata perché è stata veramente una guerra è stata una guerra siamo contro ksk livello 11 anche lui due leggendarie ogg a livello 2 e la papera a livello 2 ragazzi al colix a livello 12 a muzzi a livello 3 la colonna di fuoco altre e polly pocket a livello 5 tentiamo di riaprire subito con il nostro ciccio gamer stiamo molto attenti ad avere pronto anche un arciere dietro vediamo lui dovrebbe giocare quella che spara i razzi e no gioca polly pocket gioca polly pocket allora andiamo avanti noi allora andiamo avanti noi voglio rallentare il gigante assolutamente e sponare il goblin piccolino adesso dietro anche la nostra rosy guardate il goblin che rilascia la poison tira giù il gigante rosy si mette come scudo umano per proteggerci dai colpi ma purtroppo muzzi è cattivissimo cerchiamo di rallentarlo vediamo se la chiudiamo velocemente ragazzi e la portiamo a casa anche questa mamma mia mamma mia ragazzi che super vittoria anche qua 14 trofei per noi e continuiamo a salire ragazzi continuiamo a salire ce ne vorrà ancora un po ma stiamo veramente procedendo per il verso giusto come avete visto ragazzi micidiale micidiale la nostra rosy la rossa che ha una potenza tra l'altro io l'ho vista a livello 4 ragazzi toglie qualcosa come 3800 punti salute poi tra l'altro ha una velocità estrema e l'ho vista anche giocata in combo con l'altro goblin e l'incantesimo come si dice aspetta un attimo e l'incantesimo furia battagliera io ancora non l'ho sbloccato ragazzi ma dura 7 secondi e dà la furia a tutte le nostre truppe dentro l'area in cui decidiamo di giocare scusate di giocarla quindi veramente cattivissima cattivissima ottimo anche il la nostra lisbet che a livelli a livello 4 toglie 962 e ha comunque abbastanza punti saluti come vedete 385 al livello 9 si sblocca ragazzi l'abilità mazza orda quindi darà il 30 per cento in più di danni contro l'orda assolutamente da non escludere assolutamente da non tralasciare escludere così va bene ragazzi per oggi il video termina qua spero che vi abbia convinto a giocare con rosy la rossa spero che vi siano piaciute le partitozze io vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche questo video e vi mando un bacione grande ciao